Chiamo Enza e sono di Paternò. Mio marito mi ha lasciato dopo 33 anni di matrimonio e questa è la mia storia. A 18 anni incontro quest'uomo meraviglioso. Dopo 8 anni di fidanzamento ci sposiamo. Abbiamo due bambini, una casa meravigliosa. Eravamo felici, ma felici veramente. Dopodiché lui però perde il lavoro e quindi siamo costretti a vendere casa. Andiamo ad abitare prima da mia madre e poi in seguito dalla sua. Cerchiamo in vano di affittare casa. Io cerco lavoro, cerchiamo di darci da fare, ma niente, non ci riusciamo. E così torniamo a vivere con sua madre. Poco dopo lui però si innamora di un'altra donna. Mi cade proprio il mondo sotto i piedi. Mi sento talmente male che cerco di farla finita. Mia sorella per fortuna mi salva. È stato un dolore che non si può spiegare, veramente. È arrivato come un fulmine al ciel sereno. Così vado avanti e lui dopo due anni ritorna. Torna con me. Io nonostante tutto lo perdono, anche se ero andata in depressione, anche se ormai mi ero quasi fatto una ragione di quella, ma rimango comunque innamorata e quindi decido di farlo ritornare a casa. Pensavo che le cose tra di noi potessero andare bene, che tutto potesse funzionare. Ma a un certo punto lui però mi dice che è tornato solo per i figli. Che lui non mi ama e che io mi sono fatta tutto un film. Non ve lo dico. Sono stata ancora più male. Pensavo di essere più forte perché era la seconda volta che succedeva questa cosa. E invece niente, cado di nuovamente in depressione. Questa cosa è successa sei mesi fa. E io ancora oggi non riesco a capire come posso fare per andare avanti. Non riesco a capire come posso finalmente farmene una ragione di tutto questo. I figli più o meno sanno qualcosa, ma non hanno capito la gravità di tutta la situazione. Di come cambierà la nostra vita. Vedete, 33 anni sono tanti insieme a una persona. Pensavo di fare con lui la mia vecchiaia. Pensavo di riuscire a continuare a stare con quest'uomo che aveva sbagliato, ma che aveva capito che io ero la donna più importante della sua vita. La madre dei suoi figli. E invece no. Possibile che io non ho capito questi segnali. Possibile che io ho continuato a credere che lui fosse innamorato di me. Vorrei rinascere, ma non necessariamente con un uomo. Vorrei rinascere io come donna, trovare un senso alla mia vita, anche se ho 50 anni. Vorrei un giorno poter vivere serenamente, senza avere tutta questa angoscia e questo vuoto che ho dentro. Io spero un giorno di poter trovare quella felicità che avevo un tempo. Buona vita. Cara amica, allora, so bene come ti senti. La fine di un matrimonio, la fine di una relazione, è sempre come vivere un lutto. Ci sono varie fasi, purtroppo, da passare, prima di ritrovare la serenità e la felicità. Ti ringrazio per i complimenti che mi fai. Mi dici che sono sei mesi che ti tengo compagnia. Mi dici che la mia storia con Alex ti dà fiducia per il futuro. Voglio dirti che anche io mi sono sentita come te e come te e tante altre donne. Semi si sono pochissimi, devi ancora elaborare. Purtroppo, il tradimento, ma soprattutto la fine di un rapporto, è un po' come vivere un fallimento. E ci vuole tempo. Ci vuole tempo per capire i nostri errori, i suoi errori, ma soprattutto per capire che tutto quello che avevamo progettato non c'è più. Che dobbiamo rimboccarci le maniche e costruirci un'altra vita. Dobbiamo pensare a un altro futuro. Dobbiamo rinventarci come donne, ma soprattutto come esseri umani. Nella prima parte, quella che stai affrontando tu, ti sembrerà di avere dei giorni positivi, dei giorni tristi. Penserai di essere sola. Penserai a tante domande, di cui molto spesso non avrai risposta. Le domande, secondo me, più importanti che ti fai sono come può un marito dimenticarsi di una moglie? Come può un marito tradire una moglie? Come può un marito lasciare una moglie? Perché? Cosa gli mancava? Queste sono le domande che si fanno tutte le donne quando finiscono un matrimonio. E a queste domande, molto spesso, le risposte non arrivano. E non arriveranno mai. Semplicemente dobbiamo convincerci di una cosa. Che quando succede questo è perché l'amore è finito. L'amore può finire. Certo, dovrebbe finire l'amore e il rispetto no. Bisogna essere così bravi, così sinceri a comunicare al nostro partner che non lo amiamo più. Prima che si fa qualcosa che possa fare ancora più male. Perché il tradimento, vedete, non è tanto quello che ti dà. Cioè il dolore, il senso di vuoto, ma è quello che ti toglie. La fiducia in te stessa, la fiducia degli altri, la fiducia nell'amore. Si può rinascere, cara amica, si può rinascere. Ma è un percorso lungo, doloroso, fatto di tante introspezioni. Ti direi una bugia se dico che passeranno 3-4 mesi e tu starai bene. Ognuno ha i suoi tempi, è vero, ma ci sono delle fasi. La prima fase è quella della, io chiamo la fase della disperazione. Dove incominci a capire quello che ti è successo. La fase del lutto. Poi c'è la fase in cui vuoi risorgere. E allora cerchi di essere allegra, tante volte anche forzandoti, anche andando contro te stessa. Poi c'è la fase in cui cerchi di conoscere delle persone nuove perché ti senti pronta, no? Perché hai bisogno di sentirti donna, perché hai bisogno di avere qualche persona che ti gratifichi. E quella è la fase più delicata, perché in quella fase tu sei ancora fragile. E molto spesso non scegliamo gli uomini o le persone per quello che noi vogliamo, ma per quello che ci succede, per quello che ci accade. Molto spesso si può cadere vittime di persone che con due moine ci fanno cadere nella loro trappola. E in questa fase devi stare molto attenta. Soprattutto tu che hai avuto 33 anni di matrimonio e ancora non sai, purtroppo, di tutte queste tecniche seduttrici e manipolatori di oggigiorno. Perché purtroppo i social hanno avviato un percorso di corteggiamento diverso da quello che era 30 anni fa. Poi ci sarà la fase in cui incomincia la delusione, perché queste persone purtroppo ti feriscono, e la fase in cui cominci a capire che tutte queste persone sono inutili. Anche il semplice scriverti il buongiorno non è più una compagnia, ma è semplicemente una persona che sta occupando un tempo inutile. Perché le persone, io sapete che penso spesso, che noi siamo come delle mongolfiere, no? Molte volte non prendiamo il volo, sapete perché? Perché ci sono tutte queste persone inutili, no? Non inutili nella loro vita, inutili nella nostra vita, che non hanno senso, che prendono solo la nostra energia, che sono come dei sassolini, che entrano nella nostra mongolfiere e ci fanno rimanere a metà aria. Se noi iniziamo a capire che tutte queste persone non ci aiutano a sentirci meno sole, ma che anzi ci distraggono dal nostro obiettivo principale, che è quello di volare in alto, con qualcuno o senza nessuno. L'importante è volare alto, cioè stare bene con se stessi. Molte volte si pensa che questa sia una banalità, ma stare bene con se stessi vuol dire bastarsi, bastarsi, vuol dire accettarsi, vuol dirsi amare se stessi, vuol dire perdonarsi, vuol dire capire che siamo delle persone e delle donne imperfette, ma che hanno anche delle qualità e che da quelle possono ripartire. Purtroppo, cara amica, ci vuole tempo, però ti posso assicurare che se ne può uscire fuori tranquillamente. Non perdere mai di vista quello che è il tuo obiettivo e cerca di non cadere nella trappola di questi uomini manipolatori, che purtroppo, questo vale anche per gli uomini con le donne, assolutamente non facciamo un discorso di genere, perché purtroppo ci sono queste persone che riescono a carpire quando dall'altra parte c'è una persona ancora fragile, con poco antastima, con una persona che è ancora molto, come dire, debole sentimentalmente parlando, e se ne approfittano. Quindi ti dico solo fai attenzione, perché il cuore purtroppo non è solamente un organo, il cuore ha una memoria, ha la memoria dei sentimenti. Io questo è quello che penso. E certe ferite ci vogliono molto tempo per rimaginarsi. Quindi non cerchiamo a tutti i costi una persona che occupi un po' del nostro tempo solamente perché abbiamo bisogno di un po' di affetto, perché quello che loro ci daranno saranno briciole, briciole che però ci costeranno, cari amari. Quindi quello che ti posso dire rinasci da te e abbi fiducia. Giorni ti sentirei bene, altri giorni cadrai e ti sentirei sola, disperata. Però ricordati che noi cadiamo, ma ci realziamo, che ci facciamo male, ma non ci spezziamo. Vai avanti, non molla. Hai capito? In bocca al lupo, Leonissa. In bocca al lupo.